Grazie a tutti 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 ma un lunghello, non puoi neppure, ma 20 kg e poi puoi al minimo 10 minut ma ci sono un' partecipiente sono i storici Pikes Peak speciali sono molto molto spettante molto sembranze e molto molto rile ma un pocettino che questo quattro è stato anche in Sebastian è molto molto possibile c'è il Peugeot e l'Audio non c'è l'automazione, è molto rile quindi prendiamo l'Audino. Come ti piace la trattata? È abbastanza per te? È abbastanza. È abbastanza. Cosa riguarda l'allee, l'allee, c'è 6 anni, ma un minimo 20 metà. Sì, che i tempi si c'è via torno, in noc, ma un'allee, quindi si accade la carriere, ma un'allee, ma un'allee, ma un'allee, ma un'allee, quindi si vediamo, che è proprio che il raleigh è un'allee. Caral Vesely. Caral Vesely, che ci sono? Caral Vesely. Un'allee, ma un'allee, a, ma un'allee, che ci sono? Non mi ricordo anche troppo. Non ho nessun navigatore. Quindi non lo sopravlare. Se non lo sopravlare, non lo sopravlare. È molto difficile perché sono davvero molto dimensioni. Non lo sopravlare, non lo sopravlare. Non lo sopravlare, non lo sopravlare. Sì, sì, è stato proprio un robot. Per me è stato un lavoro. Non lo sopravlare. E poi, le sopravlare anche con dei banni, che tutti i bambini. Se sono abitati a cercare la spese. Seconda, siamo da tutti perché tutti i одной, e in effetti. ne per avermi resultingono. Perché sono troppo più bene. Per me lo sopravlare, sono un cambiamento di abbastanza e lato, lato... Lato. non ci sono tutti i treppi ma cosa dovete fare tutto quello che dovete fare non ci sono niente quindi ci sono un altro che è un team management che si chiama da lavorare è sicuramente meglio come in questo campo e non è un altro a quanto riguarda il team avete uno che è per il quattore che ci sono sempre dovete mettere. In cui si potete rinunciare anche 5 mechaniche, che hanno le loro vengono. Chiamare le più le più sono, più stavano i pieni. Ciò che faccio, per meccaniche, per meccaniche, per meccaniche, per meccaniche, quando si rinunciate l'auto Maти目 più più d'amore, ma più più di programmazione di più Donna. Figlio che magari li metano altr beni di controllare ci quindi' tickxy amp Это qualcosa di più di più di lavorare io ho ho racconto perché mi piace di questo? perché sono andati a tutti i giocati e sono molto bello e sono molto bello e poi di lavoro ma potete dire che è molto bello perché è tutto tutto il gioco il gioco però è stato un gioco ma di questo motivo è proprio il primo per il primo penso che in altri tempi ma non è più lì ma non è che la città è una cosa che è che i clodmasterson hanno fatto un esperimento a quando si è riuscito non è stato un pochino che si potrebbe essere un'azienda che si potrebbe essere un'azienda e che ci sono anche pensi perché non ho chiesto che le reazioni sono così 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 ma l'idea si metto con il sogno che il sogno è proprio un pobolo che qualcuno si è stato un pobolo non, 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 non sono molto positivi sono molto positivi non nemmo credo che ci sono qui quindi sono stati che vedono e non lo sopravlare è anche bene che lavorano in questo team con le persone che si vivono i professioni come se non professioni un designer è anche anche navigatore e se vedi a che vedi a che vedi se vedi a che vedi se vedi a che vedi se vedi quando sono iniziato quindi l'acquittà di dubbio, l'acquittà di dubbio o di studi, che si proviene in un'autore. Quindi si vediamo, si vediamo con una cursa o trese e poi ci chiedono i sui che abbiano la autenticità e quello che si può avere. Questo è stato molto interessante. Non c'è un pocino, non c'è un pocino. ... ... ... ... ... è stato molto riuscito, ma quando si vedete il merito, è stato molto più riuscito. Ora vediamo se per quanto riguarda il Svèdsku. Questa è la parte del corso. Se potete chiedere, se potete spettare la maggioranza che si chiede da l'obrannare, un'ottaggio, 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 un'ottaggio. Ciò che ho fatto da domani, è stato proprio proprio l'ottaggio. Un'ottaggio che ho fatto sono i navigatori, perché non è tutto bene. Ciò si fa anche da l'ottaggio, perché non posso farlo, quando ciò che ciò che ciò che ciò che ciò che c'è, Ci sono cose che sono costruzanti e che sono davvero abbastanza abbastanza. E' molto interessante che c'è un auto che è il moderno Peugeot 208, ma che si stavamo nel l'epito, l'hova il record. Ma che non puoi in modo da nessun modo, non puoi in modo da nessun modo. Ma che è possibile, ma il modello di pocciò, è più standarde, è completamente poliamato, quando puoi un pocciò, non puoi un pocciò, ma non è così, che si può pulire. Non c'è tutto il resto. E anche quando hai studiato in carriere, questo ciò che vede stracerà molto tempo, neanche ciò che fa 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 fa, e ciò che si fa 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 fa. Ma cosa è che si tracerà in carriere? con l'obbligazione, con l'obbligazione, ci sono molti di età per l'obbligo. Ci sono stati 6 o 4, quindi ci sono stati 6, 8, se non ci sono stati da l'obbligo, ci sono stati da l'obbligo. Ci sono stati da l'obbligo. Ci sono stati di chat, con l'early access, sono stati di QM e Dirt Rally ci sono stati di QM e Dirt Rally come si è faccio di fare l'early access. In una versione, è molto appena, si sono stati di QD, abbiamo la prima versione per l'armbligo, abbiamo la prima versione che abbiamo fatto con l'armbligo. C'è un'azienda che mi chiamato a quello che mi chiamato. C'è una versione che abbiamo fatto per l'armbligo, sono stati che sono stati molto bene, sono stati che hanno trovato un'immaginazione, sono stati molto normali. L'immaginazione con comunità è stato molto utile, sono stati utilizzati tutti gli effetti, che potessi potessi fare effettivamente. Non è solo quello che si tratta, ma anche un'immaginazione, ma anche un'immaginazione, ma anche un'immaginazione. Ci sono stati davvero davanti, e anche come se lo avvicino perché la luce è veramente molto bene ma abbiamo chiesto, come se qui mi ha detto che mi sono già venuta in RDC e ho avuto benissimo perché è successo da luce è davvero super e non è anche non è che non è stato detto che non è stato un po' arcaada ma è stato un po' più no, era un'immagine C'è un tipo di massaggio che stessi sbattendo di disciplina, quando chiede da tizia di persone, che si chiedono di riuscone. C'è un modello di fizzica? C'è un modello di simulazione della superficie. C'è un modello di sbattamento, quando si chiedete dopo un bordello e sentite come un pochale, come un pochale, come un pochale. è davvero super il modo che si può fare per farlo per farlo perché quando si scusate 1, 2, 4, 5, 5, 6 sono massi a quanto riguarda la stagione c'è un significato non è valore per un altro che sia una strada di più oltre che non è più tanto irse di più oltre l'infando il vendimento è davvero benissimo io sono stati tranquillamente non ho ho potuto non ho capire con le ricordi che sia normale ma questa è proprio super non è proprio non è questo però è molto buono che è un'ultimo è stato proprio il riso per la cena di dolori e scrattare Sì, è stato un pocchio. E' un pocchio. E' un pocchio. Ma sono finito la scuola, perché i nostri colleghi, che si chiedono a non ci sono ancora un pocchio. Casi che... Casi che... Casi che... Casi che mi ha fatto, non mi ha fatto il gioco, perché è un pocchio che c'è l'ezzato contro gli altri. oltre ci sono altre stranze ci sono moltissime che sono tre e quando sei in carriere la storia di séria ci sono davanti sempre 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 sono l'icolo sono davanti perché perché ciò che si tratta di spostare, perché il contatto del rallycross, perché si tratta di postavimento, ma non così, perché qualcuno si tratta di tratti totalmente tratti a che si potessi sconcherebbe perché... C'è stato un pocettino, che tu hai auto di Sebastiano Leba, che si tratta di auto di ai, ma anche molto neppure a che si tratta di più di più di auto che si può fare un pocettino, come si può fare un pocettino, quando si può fare un contatto. Qui è troppo meglio, non è così così come l'eleba, ma è stato anche molto 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 bene. E' un pocettino. No, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. sono davvero molto bene quindi potete fare qualcosa da restare e potete sentire a potete sentire a potete sentire a potete sentire a quando ti ti presenta non la vostra roba non la vostra roba è davvero si potete sentire si potete sentire qui abbiamo 3 tessie che possiamo fare è il Red Cross Classic che è solo un minicooper. Non è male, ma è molto male. Ci sono usato da reale che sono 16 stovati, 3 auta, e la Rally Cross Supercars, che sono offizionati, perché la Rally ha offizionato la Rally Cross od FIA. Tocchè un'attività di TVRC. Poi Taito, penso che non sia così nereale. Poi si chiede prezentare bene. Il setore l'automato è siccome di più di più di meno, è sempre il modo che sia bene, e il progetto che mi spostano. Non lo soisimo però non lo soisimo. Ma qui sono anche più di quattro, mi piacere sempre la visione della carriera. O di poi l'eu andato è sempre stato第一. Viste inizioni, perché la faccia del tante stelle che sono più di più di più, Inoltre da stagione, non sono stati restriccii, ma sono stati di papi per tutti i stessi. Ci sono alcuni di autonomi, non significa che quando è stato traggiore, ma è molto meglio, ma è stato così. Inoltre, quando investevi più di autonomi, è stato più di ricche, più di accelerazione, più di maximale, più di ricche. Ciò è abbastanza buono, perché è stato abbastanza buono, ma è stato così, non funziona Rallycross Scrape c'è un paio è stato un passaggio in cui i primi 4 kola sono stati di qualificazione di altri quindi ci sono stati di qualificazione di altri in cui ci sono stati di qualificazione di altri fino alla fine se ti chiede se ti chiede che in asfalti si stavano un'arcata non penso ma non penso però non posso direzione perché non mi sembrava non mi sembrava non mi sembrava credo che il rt è molto più importante nei sui ma ma non questo è anche molto super, perché anche se non utilizza i modelli di fare. Esatto. Mi sembra è così. Qui c'è sempre il Peugeot, è sempre in terzo di posto. Quindi con l'amore, non ho finito, non è tutto. Non c'è più di più di più di più di più di più. Il momento di una parte più simile, non è più di più di più. Non si le ho diventare più in più, comunque i più di più, ma tutti i più di sopravili. Ma ogni giù si può vedere almeno solo. È un altro pozzo, non è un lavoro. La prima parte più di sopravdu, perché tutti i potenimenti tutti e non ho pensare. Proprio di questo, ma anche in primo anno, per l'altro. Si siamo qui nei città di tre. Ok, allora siamo qui iniziali. Si c'è un altro che non si può fare un pochicino, se tu non si può fare un pochicino, non si può fare un pochicino. Non si può fare un pochicino. Si è un pochicino, è meglio che i potevili i ragazzi ci sono sempre fatti, quindi si è finito, non si può fare un pochicino, ma non è più che faccio. È un pochicino con il trattatore, quando c'è il trattato, c'è una strada di strada, o c'è una barriera, c'è una barriera, c'è una barriera, ma c'è una buona, ma c'è una buona, non c'è una buona, non c'è una buona. E' una buona, che si potrebbe lavorare con un team, come si dicevole, la RACE OF CHAMPIONS, Il mondo è stato molto più importante. Il mondo è stato stato molto più importante. Sono stati di sviluppo di sviluppo dei sui sviluppi di sviluppo. Erano di motor sport, di Formula, di Rally. Ci sono stati diversi disciplini. Ci sono stati di scopri di area di tutti i giorni, che c'è una volta di strada di trasera, che c'è una volta che c'è più più di più, ma più di più di più, ma più di più di più. Ci si può lavorare ancora più. No, questa domanda è una cosa che si può fare in altri ruotini di livello, perché non è stata una serie che si può fare ogni anno, ma che si può fare anche un ruotino. Penso che questo è il ducato che si può fare bene, che si può fare bene e che si può fare bene, quindi è super. Qui c'è la servizia, dove si può fare un'auto, io ho non lo sopravito, quindi è molto bene, il tempo si può fare bene, perché i piùischi del quello che ho utilità di solitura fa qualche minuto. Tanto in breathare ma tutto o più 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 d'acqua, più 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 più. Quindi se volete restituti a costarne le punte parli d'acqua a 2009 mi rところ vi capite. non ci sono ancora un'occhio che ci sono anche un'occhio è più importante è ancora un'occhio è un'occhio si potrà anche venire quando ci sono venuti non ci sono anche non ci sono ancora e ora ci siamo sempre non ci sono ancora non è un'occhio specifica io sono stato in un'occhio e io sono stato molto e questo è stato molto importante. Non ci sono ancora più altissime. Non ci sono ancora più altissime. Allora, l'altro kolo non è già trattato 4, ma anche 6. E' tutto il resto. Quindi si potete vedere, che quando si trattano trattano, si trattano i trattano, che si trattano a potessi trattano, e potessi trattano. Ciò è troppo problema. è un'immagine più di più di costruzione che non sono successivi però abbiamo chiesto di più di priorità che è un'errelease che è in un bambino molto più di più di posto nello più di sostanza quindi è un'altra cosa che si può più ovviamente e anche da più il proprio più di più è tutto è stato molto spettato che il carro è stato tra il giovane è stato un pocino che abbiamo trovato un pocino se potessi 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 essere ok quindi ho provato un pocino ho vieto, penso che non sarà molto facile è stato tutto? non ho chiesto? non posso andare a farlo il moto è molto super perché sono molto importante il moto non è stavile più Non si può explodere, senti come si chiede, come si chiede, come si chiede, come si chiede. Come si chiede, come si chiede, come si chiede, è piettissimo. E se si chiede, come si chiede, è il modo più che si parovano con il produttivo. Quindi ho pensato che... Ah, sì, che sono quello che c'è. Quindi è stato molto utile, che da l'ultima tecnica, che è venuto da l'ultimo tempo, che abbiamo parlato molto lungo, quindi è stata una buona, una grande giusta. Ora il successo è successo, che è stato un'ottima per tutti gli altri, per aver provato da l'ultima, per aver provato da l'ultima, non è solo un'ottima, Questo è tutto molto piccolo e sono molto più di lavoro che mi ha chiamo il nostro corpore di svilogiorno inizio di sviluppo di sviluppo di sviluppo. Ci sono tutti tutti sommi che sono proprio in sviluppo di sviluppo come giganti, perché magari sono ovviamente panna in modo che li li vodiamo in feb про evolución studio. Sì, èoro più piccolo. . Ci sono i più chiudi ad esempio, vediamoci al team management. Tanto come vi saldete, si vissi rischio dopo la vostra visione. Che più più ci sono più più di mezzo, si potete scusare i i più di 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 più. ma 15% più di più di più di risposta. E questo mi permette molto bene, perché se ne prendete dà più. Ora vediamo adesso, come vediamo, il nocino, che è davvero vrcholo adrenalinu. Diamo, ci siamo dali. Niemesco, Finsco, Svédsco, Svédsco? Svédsco, sì. Quindi faccio. Asi che voglio, vabbè. Cosa che voglio? Una qualche combinazione. Segui noci, se in più. è verso. Adesso l'auto. Stratos. Cosa che si trovato? No, non ho sento, sono i propriamente. Cosa che ne vedete. Non ciò che dovete chiedere. perchè mi chiede sempre da partecipare perché non mi chiede sempre da partecipare Storio Engelsplint C'è l'acqua bene sono molto bene Abbiamo lavorato con l'errore con l'allestone con l'errore Ci sono anche scandalli Ci sono scambiare perché non c'è l'errore non ho potuto fare non vorrei minire perché mi vedete la stessa non sono non è nulla non per colere ma cinza non sani ưngare le persone sono noi questo è un Zлатried ma è un'azienda che si fa in una scuola che mi fa e sono a fare e mi fa e mi fa che mi fa la città in questo snia si è molto facile ma in questo come un'azienda come un'azienda è un'azienda ma che si è così quando si lo ha fatto, non lo ha fatto bene ora ho fatto sbattare il snesso questo è il problema che ho parlato che i voi avere molto tempo perché ci sono state qualcosa di più a che si vede quindi credo che il Svédia per quanto riguarda il più più per quanto riguarda l'auto nonostante e potete ruote in una volta ma stagione in un millimetro e venete proprio in un poverso molto piùvegno come su è super che è finito anche che hai pedalti ne so, bello sono un piccolo dettagli in normali i giochi siamo fatti che si anche non cade . Sac forse anche sdere 内 preghiettale il quello che non serve Ciao! è stato un bel occhio è stato un bel occhio quindi non è stato brutale come si può essere ma la domanda è stato molto male quindi ho dovuto fare un pocchio perché non lo so, non lo so è stato un pocchio è stato un pocchio quindi è stato un pocchio quindi si spiega a non lo so è stato un pocchio è stato un pocchio Non c'è la combinazione di noc e l'asso, credo che sia così. Inoltre c'è un paio che sono molto specifiche, è la Niemia, è un asfalt, non c'è un paio in Bordele, ma l'etapia che sono in Niemia, sono super razzate, quindi la città di 90 stupi, ci sono anche un ruote, quindi nonostante, guardate in fronte, 3 volte 2 volte 3 volte È stato di 5 volte Ero per 6 volte Non ho sento Non ho sentito Non ho sentito 4 volte il cammino di più di tensione l'abbruncato 3 metà l'abbruncato 6100 l'abbruncato 4100 l'abbruncato 4100 l'abbruncato 4100 l'abbruncato 4100 Quattro Sì. Sì. Big Boss. Sì. 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 sono stati di messi, tè, di a di eventi, dove si potete registrare, poi si potete fare una volta di tempo. Quindi è stato fatto per favore, perché è stato un finanziamento che si fanno a quando avete auto in ogni tredo, non avete d'autore di acquistare, perché se ne chiede così, quindi andiamo con tutti gli altri, che hai studiato, che hai studiato, che hai studiato, che hai studiato, che hai studiato. Questo è anche il ruolo che mi ha chiamato di altri altri. Perché in molti altri progetti mi sta cercando tutti gli altri, che vedo tutti gli altri. Ma qui è stata una robota, che mi ha sempre scattato di sviluppo. Ani che non funziona, ma è un poverso. il nostro lavoro. Eccolo un'etapia. Ma che vi ho vedete, è il suo video del rally. Si lo vedete, se lo vedete, cosa potete fare, ma potere, perché è stato un pocettivo e un buon rally. Un pocettivo, un buon rally. Un pocettivo, un buon rally. Si lo vedete, è stato per te, ora non è in giusto perché il tempo è in giusto ma è in giusto e poi si è in giusto se vanno bene se non si usi se vanno a riuscire la capacità di potenza ma sono momenti quando si vanno a si vanno a cercare inizia la parte di giocatore inizia la parte di giocatore che è un grande problema inizia la parte 3, la 100 quindi potete poter cercare di qui e che si è successo se c'è una differenza tra Xbox 2 e P4 non ho visto la Xboxa non posso dire non posso dire ma non posso dire ma non può vedere alcantica non sono scambi, ci sono stati che poi non si trovo la parte di Dirtus ma non si trovo solito a ci sono stati che non c'è quella che si trovo in una classe su corpo e la parte di Dirtus e si trovo da parte di Dirtus Il gioco il gioco il gioco Per ottenere i modifiche, non si raiate da lo fare. Si chiede come da quel tipo di hardcore, ma questo è un'immagine che è molto 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 importante. Ma chiamava informazione che il Xbox One non ha vede di Dirt di 900p. Sì, è un sacerdario. Questo è vero, che è possibile leggere in questo video, perché sono potessi portare in questo video, quali tutti i titoli, che sono in più di risultato di Xbox, quindi è sicuramente una cosa che sta per questo video. È così. Il risultato non è abbastanza matata, ma quando si lo mettete a se stavite, ci vedete qualche cosa. come vedete è così che il gioco in questo caso in questo caso ha avuto l'impianto a non lasciare il full HD per ogni costo che ci sono più pesanti che ci sono più pesanti in questo caso anche il bluor sono quasi non reali ma cosa succede? Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Cosa che sia molto più efficace, anche il centro di costo di costo, anche se guardate dal passaggio, come va a vissere, se volete nel senso 5 euro, se stavate da costo di più inizio, non è vero che non possiamo ancora di più inizio, ma è una pozzia del titolo di bonus, ma potete farlo, ma potete riuscire a adostare la stessa che si aumenta e la parte delle più grande ma è troppo trezza perché si non ne ho farlo cioè proprio ti ho portato un'istante un'istante ma tu'istante è molto difficile perché si stessi da questo perché non è tutto sia difficile ma non è tutto in cui dovete poter farlo. Penso che è davvero importante. Quando si toglie, potete farlo. Perché si toglie, si toglie. Si toglie, si toglie. E mi piacerebbe, cosa si pensi. Ma potenza di potenza. Ok, Matias dopliui, che si spettano a parlare con i tanti, che i verze pro Xbox One Xbox One che si toglie in full HD, che è una sprava pro majiteli Xboxu. Koukám, že nám tady začala trošku zlobit kamera ve studiu. Díky Petře, že jsi přišel. Díky, že jste mě snášeli tady. Jí prezentoval, bylo to bezva jako vždycky a my můžeme divákům slíbit, že se můžete těšit na recenzi, která původně měla výjít ještě dneska, ale museli jsme protlačit na rychloj iný obsah, ale určitě výjde do konce tohohle týdne, možná zítra a s jistotou do pátku. To dík, nevíde vůbec teďka už je v šuplíku v koštině. Ne, vůbec je ta recenze byla špatná, recenza je skvělá jako vždycky a vyjde, co nevidět. Měj to z mohlo zecky a už máš dobrý recenze, dobrý reference. Ukaž mi tu recenzi, vybal to. I doktor Vant tě rád po sto letech viděl, jak musíš zase někdy včít. Děkuju, já přijdu v červnu, určitě to vychází to korze na konzole, takže přijdu v červnu. Beru to jako závaznej slib. Když umřu, tak mě vysoudí ze mě všechny peníze, které jsem měl. Ještě jsme těch jedinu učit Uncharted. Ježiš, kdo bychal Uncharted? Tak ty jsi dohrál všechny ty tři díly asi deset kvůli. Asi ono. No tak výborně, takže jste to zlyšeli. World Exclusive, Petr Štrekker bude na hry CZT recenzovat Uncharted, odborník na slovo. A když to neřekal, protože když to pak neníte, tak bylo zadebilo. No. To už je současního života, ale. Dobrá. Díky. Mějte se. Ahoj. Mějte se. Čau. Čau.